Buonasera ragazzi, dopo il pad col treppiede della hot stick, recensisco il pad senza treppiede della hot stick, identico a quello col treppiede, soltanto che più grande, invece di essere 10 pollici e 12 pollici, e dato che non ha il supporto, si poggia direttamente sul rullante, così, e si studia, ora vi faccio vedere un esempio con una delle bacchette, ecco qua, guardate, ha un grande feeling, ottima risposta del rimbalzo e soprattutto molta stabilità nei risultati, non fa tanto rumore, ed è la cosa fondamentalissima, grazie alla sua schiuma, anzi spugna, nella parte sottostante il pad, che ammortizza ulteriormente le vibrazioni e vi aiuta nel poter studiare senza dare fastidio ai vicini, ad esempio, adesso sono le 2 meno 5 circa, e sto studiando tranquillamente, quindi questo è un acquisto fatto bene, il prezzo è di 29 euro, e in qualsiasi negozio lo comprate, compratelo, perché è fondamentalissimo e soprattutto bellissimo. Grazie a tutti.